14 appuntamenti con altrettanti autori di spicco. È giunta la terza edizione, la rassegna letteraria come un libro all'aperto. L'evento, patrocinato dalla Regione Marche e inserito nel calendario dell'iniziativa di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, si svolgerà dal 18 giugno al 1 agosto tra vie, luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta. In questi tre mesi il pubblico avrà la possibilità di incontrare autori di grande rilievo a livello nazionale nel panorama della narrativa, del giornalismo, della saggistica, della radiofonia e della musica per dialogare a tu per tu con loro. Il primo sarà Walter Veltroni che al chiostro di Sant'Agostino presenterà il suo ultimo libro intitolato La Condanna. Il 19 giugno poi sarà la volta di Marino Bartoletti con il suo ultimo successo letterario La Partita degli dei. Secondo anno da presidente onorario Marino Bartoletti in questa mattinata è stata presentata la terza edizione di Comun Libro all'Aperto e ormai si può dire che a Marino Bartoletti si sente a casa qua a Mondolfo. Da orgoglioso presidente onorario sì, mi sento veramente a casa e ho detto a tutti gli scrittori che ho contattato per partecipare a questa manifestazione che anche loro si sentiranno a casa perché poi tutto nasce da una mia presentazione tre anni fa, dopo di che sono stato piacevolmente coinvolto anche nell'organizzazione della cosa di cui per la mia parte vado particolarmente orgoglioso. Quando sono entrato ho visto i libri e non sono ancora tutti perché alcuni stanno per uscire che erano sul tavolo e che fanno parte di questa rassegna. Siamo ai confini e forse anche oltre l'eccellenza al punto da chiedersi cosa si farà il prossimo anno, ma intanto godiamoci questo. Ecco qualche nome che intervisterà Marino Bartoletti? Intanto sarò intervistato io da una persona che è molto brava a farlo e poi intervisterò Walter Vettroni e poi intervisterò Serena Portone e poi intervisterò Cocchi Ponzoni e poi Gran Finale con Maurizio De Giovanni. Già questi quattro nomi fanno capire la perfezione anche la complementarietà culturale dei personaggi che ci sono e ne abbiamo trascurati un'altra quindicina, quindi io veramente vorrei essere giù dal palco, non sopra il palco per godermi questa manifestazione. Come sempre questa serie di appuntamenti diffusi ad ingresso gratuito serviranno a far conoscere e apprezzare a visitatori e turisti i luoghi più suggestivi del territorio tra il borgo e il mare. Il ricco calendario nato grazie alla sinergia con Mondadori Bookstore Fano avrà quest'anno un'anteprima speciale, sabato 18 maggio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Fermi. In quella giornata, interamente dedicata ai libri per ragazzi, si susseguiranno in Piazza del Comune quattro importanti autori, Alessandro Goffi, Francesco Muzzo Pappa, A.J. Foster e Paola Barbato. Sì, un bel connubio che è iniziato a fine dello scorso anno, quando abbiamo pensato di raccogliere la proposta dell'amministrazione comunale che già gestiva appunto una rassegna letteraria e di accogliere quella proposta per incentivare l'atteggiamento dei nostri alunni alla lettura, alla scoperta del libro, del libro cartaceo, in un'epoca tecnologica in cui il libro cartaceo è veramente difficile da far sfogliare ad un ragazzo. E in questo sono venuti incontri i prof, ne uno specifico il prof Moretti e la professoressa Crotti, che hanno accolto con entusiasmo questa proposta e l'hanno declinata poi nelle aule scolastiche e nei mesi scolastici. Una rassegna che nasce dai ragazzi, per i ragazzi e gestita dai ragazzi. Quindi è stato un processo lungo, faticoso, impegnativo, ma che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Quindi i ragazzi hanno reagito in maniera veramente positiva e abbiamo visto comunque anche l'entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale che ha creduto in questo nostro progetto e ha voluto appunto questo coinvolgimento. L'intero programma della rassegna sarà presentato venerdì 10 maggio nello stand della Regione Marche alla 36esima edizione del Salone del Libro di Torino.